Tutti in montagna per festeggiare il nuovo anno. Nel frattempo il fratello di Clizia compie gli anni. Da notare i miei scaffoni. C'è perché ho fatto un casino. Missione completa. Chavarro, che c'hai da dire? Sì. Niente. Ora siamo in vacanza. Siamo in vacanza. Relax your mind, Chavarro. Fa fatica a rilassarsi questo ragazzo. Si va a sciare alle nuove. Sì, domani alle 6 mi sveglio. Miau. Amuri, fratello. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia. Sì. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia. Grazie, famiglia. Amuri, famiglia. Clizia non sciava da 20 anni e ci promette che ci saranno sicuramente dei miglioramenti. Buon divertimento, ragazzi. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia. Amuri, famiglia.